Mi chiamo Mario Panizza, sono professore merito di geomorfologia in questa università. Ho insegnato fino a qualche anno fa geomorfologia, geomorfologia applicata. Adesso continuo a fare conferenze nell'ambito dell'università, ricerca. La geomorfologia è la scienza, una scienza della terra, che studia le forme del rilievo, sia le forme passate, quindi una ricostruzione dei paesaggi antichi di cui si possono trovare le tracce nel paesaggio attuale, sia individuare qual è la dinamica attuale di queste forme, per esempio le frane in questo caso, oppure delle forme lasciate da antichi gli acciai nel caso precedente, e vedere anche l'evoluzione futura, vedere come il paesaggio, da un punto di vista fisico, può evolvere, quindi anche in termini di rischio, di pericolosità. Io ho sviluppato la geomorfologia da moltissimi anni, perché ho cominciato l'attività a Modena, poi ho cominciato a insegnare, a fare ricerca nell'ambito dell'università di Catania, poi all'università di Strasburgo, dove ho preso la specializzazione in geomorfologia, e sono stato anche ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Francese, poi ho insegnato all'università di Ferrara, di Bologna, e infine sono qui, dove continuo a svolgere, come dicevo, attività. La mia attività di ricerca e di didattica si è svolta, come dicevo, in Italia, ma per quella di ricerca e anche di attività professionale all'estero. Io ho compiuto spedizioni nazionali del CAI, per esempio in Himalaya, 40 anni fa, a Lhotse, era guidata da Cassin, c'era Messner, è stata una spedizione con alcuni problemi anche di tipo di difficoltà. Proprio a proposito di questo farò una conferenza, fra qualche giorno, all'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti. Ho avuto modo però di viaggiare, di fare ricerca, di soggiornare in varie parti del mondo, dall'Australia all'Indonesia, all'America Latina, alle Ande, ai Pirenei, tutto quello che può avermi portato, tutti i luoghi che mi hanno portato a fare appunto ricerca e attività. Di questa attività io ho sempre tenuto una documentazione, documentazione attraverso sia punti o dei libretti che sono specifici di ciascun luogo che ho visitato, su cui ho fatto ricerche, per gli Urali, eccetera, eccetera, il Caucaso, e delle diapositive, cioè ho sempre fatto molte fotografie, molte diapositive, che ho raccolto in un contenitore, in una diapoteca, che è qui alle mie spalle, che raccoglie soprattutto le diapositive che servono, che sono servite per l'attività didattica, cioè per ogni argomento geomorfologico, per esempio, prima citavo i ghiacciai, quindi tutto quello che concerne i ghiacciai, tutte le parti del mondo, oppure le coste, i corsi d'acqua, le attività legate al vulcanesimo, eccetera, cioè tutte catalogate, le più significative, catalogate in schede, in raccoglitori, con delle diapositive, con l'indicazione del numero di catalogazione, l'età, l'argomento sintetico, e poi in un'altra teca, in un altro raccoglitore, ci sono tante schede, quante sono le diapositive dove sono spiegate, in modo più divulgativo e molto più esteso, qual è l'argomento, qual è l'importanza, questo che possa anche servire non soltanto a me, che magari ricordo, ma anche ad altri che possono fruire di questa documentazione. Già i miei allievi, ora professori universitari, hanno raccolto questo materiale, lo hanno scansionato, perché adesso le diapositive vengono utilizzate molto, molto meno, quindi bisogna scansionarli, quindi queste in parte sono già scansionate e la prospettiva è che vengano scansionate poi successivamente. Una precisazione voglio fare, queste diapositive che ho qui alle mie spalle e questo mobile, questa diapoteca, le dono, faccio una donazione alle università, in modo che possano poi costituire nell'ambito del museo un elemento con finalità di documentazione, di didattica e anche di ricerca. Queste non sono tutte le diapositive, perché qui sono alcune migliaia, perché, come dicevo, questa diapoteca ha una finalità didattica. Altre diapositive, per esempio, tutte quelle delle Dolomiti, gran parte di quelle delle Dolomiti, tra parentesi, io ho eseguito il dossier di candidatura per le Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO e ancora per questo io continuo a lavorare nell'ambito della Fondazione Dolomiti UNESCO, queste le ho a casa con tutto il materiale, in un'altra diapoteca, con tutto il materiale che riguarda queste ricerche che sto svolgendo ancora sulle Dolomiti, ma anche di tutte le spedizioni, i viaggi, le ricerche che ho fatto nel mondo, queste le ho a casa in altri raccoglitori che sono specifici. Qui, ripeto, quindi c'è quello didattico, più generale. La cartoteca è suddivisa in argomenti, per esempio, qui abbiamo i ghiacciai, i deserti, eccetera. Hanno un loro numero che corrisponde ad una scheda, per esempio, questa è una diapositiva che riguarda un ghiacciaio nel Moltaelbrus, in Unione Sovietica. Quindi c'è un numero, una data, al numero corrisponde una scheda. Qui, in un cassetto, ci sono tutte le schede corrispondenti a queste diapositive e vengono esaminate, possono essere esaminate da chi vuole fruirne, oppure possono essere scansionate per le indagini a cui accennavo prima. Quindi è immediata il riferimento. È molto facile trovare, per esempio, uno vuole sapere i corsi d'acqua, le cascate, allora c'è un argomento di corsi d'acqua che riguarda le cascate, lì sono raccolte le cascate di tutto il mondo, fra quelle dell'Iguassù in America Latina, quelle del Niagara o altre, più piccole, in Appennino, in altre parti d'Europa, e le vede, quindi le vede nello schermo, dice questa mi interessa, vede il numero, va a cercare la scheda corrispondente al numero e lì c'è la spiegazione di quando è stata fatta, di qual è l'argomento specifico, del perché è importante da un punto di vista didattico. Le ricerche geomorfologiche si concretizzano con dei rilevamenti geomorfologici, si illustrano con delle carte geomorfologiche. Qui vi farò vedere alcune di queste immagini di cartografia e poi alla fine per arrivare ad una maggiore illustrazione in tre dimensioni, le carte sono in due dimensioni e in tre dimensioni dei plastici e vedremo un esempio in Appennino. Qui appese sono delle carte geomorfologiche che ho eseguito io in varie parti d'Italia, in questo caso del mondo, ne ho fatte delle altre, tra l'altro volevo ricordare anche che sono stato presidente dell'Associazione Internazionale di Geomorfologia, ne sono membro onorario. Comunque abbiamo la prima, una carta geomorfologica, che è la prima carta geomorfologica in Italia, la carta della Calabria, quando ero all'Università di Catania, la seconda è una carta geomorfologica della Basilicata, anche questa quando insegnavo all'Università di Catania. Poi facciamo un salto di tipo geografico, la carta della pietra di Bismantova, questa è relativa a uno stage di geomorfologi, è stato il primo gruppo che ho coordinato io di geomorfologi in Italia e quindi è un lavoro di gruppo in cui il territorio era suddiviso in parti e dei gruppi lavoravano nella zona. Questa è una metodologia che ho imparato, che ho sperimentato in Francia quando ero all'Università di Strasburgo e appunto che ho applicato, introdotto in Italia. Al di sopra di questa carta se ne vede un'altra, qui siamo nelle prealpi venete, qui quando ero all'Università di Ferrara, questa è la zona dell'Alpago, del lago di Santa Croce, provincia di Treviso, confine con la provincia di Belluno. E infine un'altra tappa, qui Università di Ferrara e Università di Modena, una carta che ho eseguito assieme a un mio collaboratore, che adesso è professore all'Università di Padova, Professor Carton, qui è una carta delle Dolomiti, la Valle dei Monzoni, nei pressi sulla sinistra della Val di Fassa. L'ultima immagine è relativa alle Dolomiti, è il plastico di Cortina d'Ampezzo, al centro Cortina d'Ampezzo e tutto intorno l'Etofane, il Faloria, l'Antelao, la Croda da Lago. Quindi questa è una zona che ho studiato, che continuo a studiare, sempre nell'ambito di Dolomiti e Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. Ricordo che la sede della Fondazione Dolomiti UNESCO è proprio a Cortina d'Ampezzo, dove ci si riunisce periodicamente per le attività relative proprio al proseguimento della promozione delle Dolomiti come patrimonio universale. Dopo aver visto il plastico a scala più grande riguardante le Dolomiti, quindi vediamo uno a scala più grande ancora, cioè di dettaglio, e riguarda una zona dell'Appennino, fra Sestola, che è qui sulla destra, Monte Creto a sinistra, qui sullo sfondo è il Cimone. È una carta geomorfologica, è un plastico geomorfologico che è stato svolto da uno studente che si chiama Davide Vanoni, riguarda una tesi di laurea, l'ultima mia tesi di laurea che ho seguito l'anno scorso, e si è concretizzata appunto in una ricerca, una ricerca che ha la finalità di indicare la dinamica di questa zona attraverso la dinamica dei movimenti franosi. Il plastico in particolare è stato fatto attraverso delle diverse lamine di legno compensato corrispondenti ciascuna a una isoipsa, cioè queste linee che noi vediamo corrispondono a linee di uguale altezza, quindi del 500-600 con una distanza di 25 metri in 25 metri, poi sono state messe l'una sull'altra a formare un plastico, la base di questo, su cui sono state disegnate e colorate le frane. Queste frane che qui sono indicate in modo più schematico rispetto a ciò che è stato fatto nella tesi di laurea, le frane con due diversi colori, quelle con un colore bruno-giallastro e quelle rosse. Quelle bruno-giallastro sono delle frane quiescenti, non attive, quelle rosse sono quelle in attività, in movimento, cioè che indicano una pericolosità imminente, quindi delle situazioni di rischio per le abitazioni, per le strutture, per le strade, per le infrastrutture. Quindi ha una finalità applicativa, cioè una geomorfologia applicata alla stabilità, al rischio di una zona del nostro appennino.